È un giorno importante perché abbiamo conosciuto un nuovo agente della polizia locale, un agente a quattro zampe che servirà per trovare chi spaccia o comunque la droga in giro per Gallarate. Ovviamente questo non è uno degli obiettivi della nostra polizia locale, ma il cane Zorro sarà uno strumento per andare comunque a individuare sacche di criminalità che sono in città rendendo la città più decorosa e migliore rispetto adesso. Quindi uno strumento di prevenzione utile per la città e non solo.